Ha lottato fino alla fine ma non ce l'ha fatta. Sara Gentile è morta questa notte nella rianimazione covid del Cardarelli di Campobasso dove era giunta poche ore prima in condizioni critiche. Gravi complicazioni vascolari preesistenti al ricovero riferiscono dalla terapia intensiva senza altre patologie associate gravi complicazioni vascolari legate al coronavirus nonostante le fossero state inoculate tre dosi di vaccino il nesso probabilmente c'è spiega il primario Romeo Flocco Campomarino paese dove la 45enne viveva con il marito e i tre figli e un paese sconvolto. Sara era un assistente sociale molto attiva nel mondo del volontariato conosciuta e benvoluta da tutti sempre accanto ai meno fortunati sempre con il sorriso sui social lo struggente ricordo delle associazioni con cui lavorava una donna dedita alla famiglia e agli ultimi le parole del sindaco Pietro Donato Silvestri.